Musica Llevare su un pallone vagante, a scagliarlo con il destro, un paio di rimbalzi, poi il destro di Gantz. E poi dentro, palla per Cavion, al limite, Cavion, 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 in tiro! Rene! Palla da Totella che attraversa tutta l'aria, per la finestra. Vinkovic controlla, Vinkovic! Bucca sul primo palo Fugioni. Bucca sul primo palo Fugioni. Va Mancuso, l'anni straordinario! Che manche, si libera la balla in rete! Cavion, Cazzo, ne ha scendami di rigore. La conclusione rete! Prete! Cavacoli il testo! Rene! Manuco! Rene! Cavion, Cazzo, Capuchola, scendami! Incontro bene per Nascoli! Cosa va! Sì! Sì! Rete! Destro! Si è usato Paleari! Sti camion! E la finale da Garossetti! C'è un pallone messo in mezzo! Brosco al volo! Il testo in rete! Poi arriva Beretti! Scivolante! La palla verso Brosco! Gantt! Gantt! Rete! 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 Un passo, un secondo, si gira, parte il tiro! Rete! Rete! Servo in destra, il tiro! Rete! Rete! Buono il controllo in aria, Beretta la mette per Gombo! Dentro un ultimo tanto, Rossetti! Sul secondo palo! La mette dentro, sul primo palo, la girata, il gol del vantaggio! Venti dell'Ascoli sul primo palo, toccare da Magli! E l'Ascoli in vantaggio! Il gol del Venti! E' già un raddoppio! Rete! Niccolati! Rossetti! Potenzione regolare, Rossetti! Salto il portiere, Rossetti! L'Ascoli in vantaggio! Rete! Il posto di Niccoli se passa in giro! Rete! 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 Cicinezzi! Il sinistro! Rete! Rete! Palla tagliata, il colpo di testa! C'entra ad occupare l'area! Rubin fa il cross per Ardemagni! Che ci mette in piedi! Con dentro! Un attento! Palla che gira verso il secondo palo! E' il gol dell'Ascoli! Cross delizioso! Da parte di... Cicinezzi! Avion, il velo di Rossetti, Ardemagni! Ardemagni! Il 2 a 0 dell'Ascoli! Altro! La bandierina va a Niccoli, arriva a Brosco che di testa in tuffo! Per Dacruz! Il liscio di guagliata! Dacruz in area di rigore! Interno a destra! Ed è 2 dagli 11 metri! Va il capitano Ardemagni! Interno a destra! L'assist per un entrato Scamacca! Controllo! Destro secco! Sinistra per Caviona! Lato corto dell'aria! Traversone per Scamacca! Che di testa! E vede Caviona! Assist passo per Scamacca! Che in spaccata! Tocca in maniata! Per un entrato di rigore Scamacca! Il destro a giro! Rete! 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 Dacruz in mezzo a 2! Vada sul fondo! Dacruz la mette in mezzo! Rete! 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 Entra, suola! Terzo passo, parta e riro! Rete! Parto in giro il giro... Rete! Rete! Tino parte... Rete! Parto il giro... Tino scelta... Rete! Rete! Da Cruz. Da Cruz, da Cruz è solo... Da Cruz che fanno... Rete! Guardi a paglia sul mancetto... La pantalpla sica è il giro! Guardi a paglia... Guardi a paglia... Rete! Vinco a vissa! Per questo istante parte da Kruzzi con il testo, il tiro, Rete! Per sinistra, Kruzzi da Kruzzi dentro, la conclusione, Rete! Gordi Vincoli a forza, la valla dentro, Scamacca a destra, Rete! Rete per Vincoli, dentro, verso Scamacca, il tiro, Rete! Secondo palo è la crozza, Scamacca, Gordi! Attenzione a Vincoli, dall'altra parte Beretta, Beretta in aria di rigore, Beretta, Beretta in aria, Beretta allo scaletto! Di Giacco! Contagini va su Brosco e di testa, compia la Rete! Dentro in aria di rigore, la gira, Scamacca, la conclusione, Rete! E poi dentro per Camion, al novantesimo, non c'è l'istante. Scamacca e Andreoni, è proprio l'ex Vicenza che va al cross, Camion, mezza girata! E in aria noltre o sinistra, tocco sbarcante per Morosini, destro, chirurgico all'angolino basso, prima gioia per lui. Drinking secco su Bogdan, poi interno Mancino che supera Pizzari, Borcino ancora a Morosini, Polide sotto la traversa, secondo centro. Alla trotta che tutto solo arriva in aria di rigore e poi col testo. Sì, grazie, D95, gira, Gira, che voluta a scrivere, che tirò! E governo, che governo, finita un rigore, dalla sinistra, Dinko vince, Dinko vince, Dinko vince, e tirò! DINKO NN! DINKO NN! DINKO NN! La finezza, supera tutti i testi, supera lui che è nata di sosta, che è giocato il primore. Alasco, il secondo finire rubro del primo tempo, la Parincia, conto 70. Spletti dell'azione personale, ne senti, ne spingi male, l'incomincio non può sbagliare. Trova a reagire, Pimorosini e Capazio, il tuo Rosso Terra con il tempo supera Ravaglia. Il quinto centro del campionato, il ventico e il trecico dentro per Scamacca, piatto destro di prima intenzione. L'ultavo centro del campionato per lui. L'assist è vero, è soppronta, che con Mancino va a segno, tecnici e teco, perlanto di tanta. Come parto in divisione, Camacca, e va tutto il mio! Sì, 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 sì. Partito di trazza, diviata, vede, vede. Ninkovic, partito direttamente in porta, vede, vede. Perfettare la persona, vede, le tucano, vede, la tucano, vede, la tucano, vede, la tucano, vede. Vede, vede. Vede, non si spettacchino al volo, colinoro, vede, il tucano, vede. e per il suo tempo, il suo tempo è inizioso! E' un'altra parte, un'altra parte! E' 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 un'altra parte! Camionta, un 43-esimo, cross destro! Moro a Nikovic di testa! E' un'altra parte! Con il destro supera! Di Gregorio! Un'azione viene rettita a Vagoni! E' preciso e puntuale! Un'altra parte! Di prima in aria, splendidamente per Camion, che dopo il rimasto... Ed è splendido il colpo di tacco di Gausuini! Spiro di Camion! Spiro di Camion! Al limite dell'aria! Carica al destra! Spiro di Baic! Si sblocca anche l'attaccante bianconero! Sono un gran pendente! Non si è un caesino! Non si è un caesino! Spiro di Camion! Spiro di Camion! Spiro di Camion!